6 pensioni su 10 nella provincia di Pesorubino sono inferiori ai 750 euro e questo è il dato più preoccupante che emerge dal recente report dell'osservatorio IMSS elaborato dall'IRSGL Marche su una demografia di circa 117 mila pensioni nel nostro territorio. Dati preoccupanti Lili Gargamelli per quello che riguarda uno stato dell'arte che tra l'altro convive con il problema dell'inflazione? Assolutamente sì, peraltro sono persone nella maggior parte dei casi con una fragilità e con una difficoltà nell'accedere alle prime cure, perché le persone 65 anni autosufficienti ovviamente avrebbero diritto ad avere una qualità della vita superiore a quella che sono in grado di sostenere con questi valori economici. Quando parlo di qualità della vita significa accesso alle cure e accesso all'alimentazione e accesso alla casa, sono tutti elementi che fanno la qualità e il benessere di una persona. Io sono abituata a paragonare i diritti delle persone anziane, oltre 65 anni, autosufficienti, non trattiamo il tema della non autosufficienza perché lì sarebbe veramente una tragedia valutarla con questi dati economici, analogamente alla prima infanzia. Sono entrambe persone fragili, entrambe persone che avrebbero diritto ad un benessere, ad una qualità della vita, che ovviamente per quello che ci riguarda significa accesso alla cultura, accesso all'arte, accesso al benessere, accesso allo svago, accesso alla casa, accesso ai beni di prima necessità. L'inflazione che oggi purtroppo cade ferocemente su queste entrambe situazioni, sia della prima infanzia sia degli anziani, colpisce in modo molto pesante. E di stamattina, se non ho capito male dai radiogiornali, l'indicazione anche della Lega di innalzare le pensioni minime, quelle che sono a 600 euro. Ma c'è un tema, che è quello che è stato trattato stamattina, spero non sia di questa natura, una possibile non applicazione dell'indicizzazione, che vuol dire che l'inflazione continua ad erodere, ad incrementare, pensionati non hanno nessuno strumento per avere un adeguamento economico da questo elemento. In tal senso il sindacato cosa può fare anche nel dialogo con le istituzioni governative? Assolutamente, gli accordi che abbiamo stipulato con il Comune di Pesaro, con il Comune di Fano, con i grandi comuni della provincia, ma anche con gli ambiti territoriali possono essere un sollievo perché affrontano il tema degli affitti, affrontano il tema della taria, affrontano il tema della vivibilità in ambienti protetti, peraltro. C'è una questione invece rilevante, coloro che hanno avuto accesso e hanno accesso con sempre maggior difficoltà alle case di riposo devono sostenere una retta che è diventata pressoché insostenibile per le famiglie. E c'è il tema ovviamente della cura, è un tema che non riguarda soltanto gli anziani, riguarda un pochino tutti. Le lunghe liste di attesa e l'accesso purtroppo alla cura dal punto di vista del privato è un elemento di grande inquietudine.